In attesa di molte più vittorie sul campo, un grande gol a Fidelis lo ha segnato nella giornata di giovedì quando ha deciso di consegnare doni e giocattoli a bambini e ragazzi sia ricoverati all'interno del reparto pediatrico dell'ospedale Bonomo di Andrea, sia agli ospiti della casa famiglia Giovanni XXIII, sempre della città federiciana. Ed allora un po' di timidezza iniziale, ma poi tanti sorrisi, foto e selfie, una rappresentanza di atleti guidati dal capitano Loris Palazzo e dal club manager Michele Lopetuso ha voluto consegnare proprio i tanti giochi messi a disposizione dalla Clementoni e da Azzaro per cercare di aglietare il Natale di diversi bambini e ragazzi in un momento davvero molto particolare. Immancabile anche la consegna della maglia bianca azzurra che da ieri sarà ben esposta all'interno sia del reparto di pediatria che nella casa famiglia Giovanni XXIII. Abbracci, carezze ed esperienze rese anche possibili grazie alla collaborazione della Fidelisania con l'ASL BT e in particolare con la direzione sanitaria dell'ospedale Bonomo guidata da Stefano Porziotte con il primario della pediatria Leonardo di Terlizzi. Un gesto semplice, spiegano dalla Fidelis, che però riporta al centro il ruolo sociale di una realtà sportiva che prima di tutto è una realtà del tessuto cittadino andriese.